Ciao a tutti, bentornati nel mio canale, sono ancora in Croazia come vedete dallo sfondo e oggi volevamo provare ad andare in spiaggia anche se in realtà è una giornata un po' uggiosa perché è nuvoloso, ci sono delle nuvole che insomma non promettono bene, ma volevo comunque portarvi con me sulla spiaggia e cominciamo dall'outfit, vi faccio vedere come mi sono vestita per andare in spiaggia. Le scarpe sono sempre le stesse della volta scorsa ma sono molto comode per andare in spiaggia, ci cammino molto bene. Il vestito che indosso è questo, ho deciso di mettere questo vestito tutto colorato sui toni dell'azzurro che comunque insomma per andare al mare è adeguato, è un vestito un po' particolare perché ha questo spacco veramente molto ampio, io infatti ho messo anche un bottoncino qua, insomma è un vestito molto carino, mi piace soprattutto per la fantasia che ha, i colori. Questo è il mio outfit da spiaggia, adesso andiamo a vedere direttamente in loco com'è la situazione. Ciao a tutti, siamo sulla spiaggia della Croazia, volevo farvi vedere un pochino com'è la situazione, è nuvoloso, il mio compagno ha già detto che i giuccelli volano bassi, quindi sicuramente tra un po' piove, però vi faccio fare lo stesso un giro. Questa è la spiaggia, come vedete il tempo è un po' nuvoloso effettivamente, ci sono proprio dei nuvoloni in realtà in lontananza, ma noi non demordiamo, rimaniamo qui e speriamo che non piova. Laggiù come potete vedere c'è Parenzo, è in lontananza, quindi credo vediate poco, comunque abbiamo una bella vista perché si vede comunque la città. Questa è la spiaggetta con i ciottoli, piccolini, però sono sempre ciottoli, quindi non è proprio comodissimo stare seduti qui, ma vabbè, insomma, comunque paesaggisticamente carina. Ci sono i lettini, l'ombrellone, questa volta non li abbiamo affittati, ma vediamo la prossima volta. E io sto leggendo il libro che vi avevo annunciato in un video, La gemella silenziosa. Per adesso mi piace, vediamo come proseguirà, però devo dire che ha cominciato bene. Qua ci sono i miei piedi, ma vabbè, vedete quello che sto riprendendo. Questa è la spiaggia, è silenziosa, si sta effettivamente molto bene qua, c'è proprio un senso di pace, bella. Vi porto anche verso il mare, perché l'acqua è veramente cristallina, proprio una bellissima acqua trasparente. Qua c'è un gradino ripidissimo per arrivare all'acqua, però vedete com'è trasparente, veramente pulitissima. Mai vista una spiaggia così pulita. Faccio questa ripresa anche dall'alto. Vedete il cielo? Tutto pieno di nuvole. Lì c'è il sole che filtra attraverso le nubi, che sembra che ogni tanto lasci anche ben sperare, però poi purtroppo rimane coperto dalle nubi. Comunque faccio questa ripresa un po' particolare, sono sdraiata, sto guardando il cielo e lo condivido con voi, il cielo della Croazia. Ho condiviso con voi la spiaggia, il cielo, il mare e adesso vi mando un saluto, un bacio enorme e ci vediamo alla prossima. Ciao!